Musica Seduta monotematica in consiglio regionale sulla sanità, presenti i commissari Giustini e Grossi, cittadini in protesta per lunedì nella capitale. Musica Previsto un nuovo sciopero del comparto dei trasporti in Molise a creare problemi, continui disservizi e ritardi in piazza anche studenti e pendolari. Pari dignità e rispetto, i cittadini della periferia di Termoli in costante crescita chiedono maggiori tutele e diritti agli amministratori locali. Musica Puntare ad un'economia di comunità per il rilancio e la riqualificazione dei piccoli paesi a Castel del Giudice avanzano proposte per la crescita della zona. Musica Buonasera cari amici telespettatori, ben ritrovati con l'informazione del telegiornale della sera di TLT. Giornata importante questa per quanto riguarda la sanità. Seduta monotematica oggi in consiglio regionale per tornare a parlare proprio del tema. Presenti anche i commissari Giustini e Grossi per la presentazione del nuovo piano sanitario. Intanto sono stati molti problemi emersi durante la discussione. Debiti, piani di rientro e pazienti nel caos. Intanto i comitati sono pronti a scendere in piazza nella capitale lunedì prossimo per protestare. Ma vediamo nei dettagli. Confronto oggi in consiglio regionale a Campobasso tra i commissari ad acta per il sistema sanitario Angelo Giustini e di Grossi e gli esponenti politici a Palazzo d'Aimmo per conoscere i principi del nuovo programma operativo della sanità pubblica. Giustini tra le altre cose ha messo in evidenza la pesante situazione finanziaria operativa di carenza medica e infermieristica trovata all'atto dell'insediamento un anno fa. Ida Grossi invece ha voluto far conoscere all'assemblea di via 4 novembre le linee principali su cui poggia il nuovo programma operativo 2019-2021, piano che si muoverà in continuità con quello precedente in termini di strutturazione della rete ospedaliera. Il subcommissario ha poi voluto ricordare come nel programma sono stati approfonditi tre aspetti l'accessibilità degli utenti ai servizi sanitari, la qualità dei servizi prestati e i tempi per la correzione delle problematiche. Il prossimo programma operativo infine dovrà mostrare un'attenzione speciale alla rete ospedaliera quella dell'emergenza e territoriale, oltre che alla prevenzione e miglioramento degli approvigionamenti all'intero sistema sanitario pubblico. All'audizione odierna in Consiglio regionale erano presenti anche i rappresentanti dei comitati civici. C'è un popolo che è stanco, che si ammala sempre più per un ambiente ammalato e che chiede di invertire la rotta. Questa rotta non può essere invertita prima di tutto se non viene azzerato. Il debito della sanità molisana, da qua non si può prescindere, per questo noi saremo a Roma. Ma al di là di questo le parole sono quelle che noi sapevamo già. Questo si può fare, questo non si può fare. Poi però dobbiamo capire da grandi, quando saremo realmente grandi, il da farsi chi dovrebbe farlo. Perché se c'è un governo nazionale, c'è un governo regionale, in mezzo c'è un vuoto, che siamo noi, significa che un problema c'è. Noi andremo a Roma al 16. È chiaro, chi sta guardando dall'esterno capisce chi andrà a Roma. A Roma ci andranno le persone. Con chi andranno? Andranno con una parte di comitati, con una parte di stampa e con una parte di sindacati. Il presidente della giunta, Donato Toma, nel corso odierno del Consiglio sul tema della sanità, ha chiesto al governo nazionale deroghe per il Molise al decreto Balduzzi, al fine di ottenere idea di primo livello e la revisione di alcuni parametri. Niente più di quanto già si sapeva sulle difficoltà e sui debiti presenti riguardo alla sanità molisana, la seduta del Consiglio regionale non poteva che essere un atto dovuto da parte di tutti i rappresentanti politici. È stato questo il commento dei comitati civici presenti in aula, ma che non hanno avuto modo di esprimersi riguardo alle soluzioni da adottare riguardo alla situazione attuale. E intanto, restando sempre sull'argomento, il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, lunedì 16 incontrerà a Roma i manifestanti in difesa della sanità pubblica molisana. La notizia arriva proprio nel giorno in cui i commissari Giustini e Grossi sono entrati per la prima volta in Consiglio per parlare dei problemi connessi. Anche alcune scuole di Sernia e Venafro prenderanno parte alla manifestazione. E cambiamo adesso decisamente argomento e parliamo dei lavoratori del trasporto pubblico che hanno indetto per lunedì 16 dicembre un nuovo sciopero generale per manifestare contro le pessime condizioni in cui riversa il comparto. Ormai da tempo, vediamo. La protesta degli autoferrotrambieri, che lamentano delle pessime condizioni in cui riversa il trasporto pubblico molisano, non si placano ed anzi intendono proseguire, per culminare in uno sciopero generale indetto per lunedì 16 dicembre. A peggiorare la precaria situazione dei trasporti locali e ad avvampare il fuoco della protesta c'è anche la questione retributiva, giudicata dai manifestanti altrettanto pessima. In questo scenario la politica, secondo i sindacati che hanno indetto lo sciopero, non è ancora riuscita a produrre provvedimenti concreti ed immediati in grado di porre rimedio ad una situazione divenuta ormai insostenibile. Non sono bastati nemmeno gli annunci della regione, come quello del rinnovo del parco autobus, a far desistere i lavoratori dallo scendere in piazza, che giudicano, come mero fumo negli occhi, i proclami dell'ente territoriale. Gli autobus operanti sul territorio, fanno sapere i sindacati, sono tra i più vecchi d'Italia. Il 74% infatti ha un'anzianità superiore ai 13 anni, una situazione che non possono risolvere le 29 imprese del settore, che si trovano già in una condizione di sfruttamento del personale e che negli anni hanno offerto alla collettività un servizio a dir poco indecente. Noi non ci stiamo e non siamo disposti a fermare la protesta, torano dunque i lavoratori che, pur garantendo le fasce orarie di garanzia, incroceranno le braccia il 16 dicembre. Parliamo adesso della cronaca. I carabinieri di Giuliano in Campania hanno arrestato un 25enne di Boiano nell'ambito della maxi-operazione, che ha coinvolto persone riconducibili al cran camorristico De Rosa. Pesanti i reati che sono stati contestati, si parla di associazione di stampo mafioso, estorsione aggravata del metodo mafioso, e detenzione di armi clandestine, spaccio di sostanze stupefacenti. La Guardia di Finanza a Termoli ha sottoposto a sequestro a Riovivo una casetta in campagna di circa 100 metri quadri realizzata in assenza dei titoli autorizzativi e concessori su un fondo di 200 metri quadri circa. Le misure sono state scattate anche per un manufatto in cemento armato di circa 110 metri quadri ancora in costruzione, che ha comportato la cementificazione di un ulteriore terreno agricolo di circa 600 metri quadri. I cinque responsabili dell'operazione sono stati deferiti per concorso nei reati di inanneggiamento e deturpamento ambientale, oltre alle violazioni urbanistiche e paesaggistiche. E restiamo sempre in ambito di cronaca, ma ci spostiamo a Disernia dove i carabinieri hanno denunciato quattro persone ed eseguito sei perquisizioni e 72 controlli. 17 sono state anche le contravvenzioni elevate per violazioni al codice della strada, 3 le richieste di applicazione dei fogli di via obbligatori, una contravvenzione per ubriachezza molesta. E' stato deferito durante i controlli anche un uomo di Campobasso per detenzione di un manganello non consentito rinvenuto a bordo della propria autovettura. E continua a crescere la periferia di Termoli. I residenti però chiedono agli amministratori pari dignità e rispetto per non essere considerati dei cittadini di Serie B. Vediamo. L'amministrazione comunale a Palazzo Sant'Antonio di Termoli non può e non deve dimenticare i quartieri periferici di una città che continua ad estendersi verso i comuni limitrofi di Campomarino, Pedacciato e San Giacomo degli Schiavoni. Le temperature gradevoli delle settimane scorse e le abbondanti piogge hanno risvegliato la natura che ha prodotto una vegetazione rigogliosa ai lati delle strade con evidenti disagi per pedoni ed automobilisti. E' il caso di Via Udine. Gli utenti chiedono al sindaco Francesco Roberti alla sua giunta di attivarsi per lo sfalcio delle erbacce lunghe le strade di lottizzazione. Il bel tempo ha però favorito anche la ripresa dei lavori dell'intervento di messa in sicurezza lungo Via Lissa. Dagli amministratori termolesi dovrebbe pur essere in via di risoluzione la problematica delle infiltrazioni di acqua piovana nelle camere mortuari e del nosocomio del Santimoteo, infiltrazioni provenienti proprio da Via Lissa. La precedente giunta di centro-sinistra ha saputo sfruttare una legge regionale per dare il via alla risoluzione di storture normative di vecchia data e poter finanziare un intervento altrimenti non realizzabile. I residenti dei quartieri periferici si attendono dal nuovo esecutivo la giusta sensibilità per dare voce e dignità a coloro i quali risiedono nelle aree marginali di una città in continua espansione. E ci spostiamo adesso nel capoluogo per tornare a parlare dei problemi legati agli impianti di videosorveglianza in merito alla questione di intervenire dopo le polemiche di queste ore. Il primo cittadino Roberto Gravina che ha voluto precisare come non risponda al vero l'accusa mossa all'amministrazione comunale di minoranza di non aver attivato le procedure in merito alle criticità riscontrate durante questo periodo, trattandosi di un appalto regionale abbiamo richiesto alla regione di intervenire, ha sottolineato così Roberto Gravina come già annunciato anche lo scorso 22 di novembre. E parliamo adesso della transumanza come patrimonio dell'UNESCO sono ore decisive per il Molise e il Comitato Mondiale infatti si è riunito a Bogotà in Colombia per decidere se includere o meno tale pratica nella lista dei patrimoni culturali immateriali dell'umanità in regione. C'è tanta attesa per il verdetto. Vediamo. Ore decisive per il Molise che potrebbe accrescere il suo patrimonio culturale e artistico grazie ad un nuovo riconoscimento. Argomento su cui discutere l'antica pratica della transumanza. La transumanza, ricordiamo, è un'antica pratica della pastorizia che consiste nella migrazione stagionale del bestiame lungo le rotte migratorie nel Mediterraneo e nelle Alpi. Si apre così una settimana decisiva per la pratica poiché il Comitato Mondiale dell'UNESCO, riunito a Bogotà in Colombia deciderà se includere tale attività nella lista dei patrimoni culturali immateriali mondiali dell'umanità. La candidatura all'UNESCO è stata avanzata nel non lontano 2017. A decidere, il futuro della transumanza saranno i delegati di 24 stati. La proposta è ampia e unisce tutta l'Italia, dalle Alpi al Tavolire. Le comunità emblematiche indicate nel dossier come luci simbolici sono diverse, tra cui i comuni di Amatrice, da cui è partita la candidatura, Frosolone, fino a Volturara in provincia di Foggia. Parliamo adesso di temperature in netto calo, otto spartineve, tre turbine, una pala gommata della provincia di Sernia, altre ed altri 72 mezzi privati a cui sono state affidate le attività di sgombero, neve e trattamento antighiaccio sull'intero reticolo vario di competenza. Sono questi solo alcuni dei mezzi impiegati per le novità del nuovo piano neve 2019-2020 che è stato presentato nella cittadina Pentra in un momento caratterizzato da una forte ristrettezza di risorse, ha affermato il presidente della provincia Alfredo Ricci. Il piano ripropone uno schema già collaudato lo scorso anno, rafforzando però la sinergia con le amministrazioni comunali e le associazioni della protezione civile. E parliamo di lavoro, bisogna trovare a più presto soluzioni e politiche attive per la situazione degli ex lavoratori dello zuccherificio del Molise. Domani una delegazione composta da consiglieri regionali, sindacati e il sindaco di Termoli Francesco Roberti incontrerà il ministro nella capitale per far luce proprio sulla vicenda. E parliamo adesso della riqualificazione dei borghi che passa attraverso quella che viene definita una nuova economia di comunità. A Castel del Giudice c'è stato proprio un incontro sul tema importante per rivalutare proposte e rinnovare la crescita del paese ma sentiamo quali sono state le considerazioni del primo cittadino, Lino Gentile. Sindaco, la tre giorni di Castel del Giudice questa volta è molto molto importante forse più delle altre perché si parla di un'aria che voi respirate già da parecchio. Beh, siamo onorati da ospitare questa tre giorni molto piena, molto interessante è una tre giorni in cui si discute delle migliori pratiche portate avanti nelle aree rurali del paese delle migliori esperienze al servizio di un'economia nuova dell'economia della comunità, dell'economia della partecipazione un'economia della consapevolezza delle grandi opportunità che le aree interne hanno. Noi abbiamo ascoltato delle testimonianze di cose davvero interessanti in comuni anche più grandi di Castel del Giudice e sono riusciti a fare un gioco di squadra, per esempio il sindaco di Biccari. La comunità, la comunità che diventa protagonista nella fase della implementazione di progetti di impresa ma anche nella fase della capacità di usufruire i frutti che l'impresa mette in campo. Però una condizione qua non è l'unione che deve regnare nel comune. Guai, mai da soli non se la si fa. Io nel mio piccolo intervento ho messo in evidenza che le cooperative di comunità ma le imprese di comunità sono la terza via rispetto alle imprese capitalistiche da una parte le imprese collettive, le imprese pubbliche dall'altra. Però c'è bisogno dell'unione, c'è bisogno della coesione, c'è bisogno della consapevolezza e della condivisione. C'è bisogno di un promotore, il sindaco da una parte, ma chi altro dovrebbe partire? Ma nei piccoli comuni all'interno il comune, non il sindaco, è il principale soggetto di sviluppo economico. Si mette intorno al campanile del paese e il comune ha la sua funzione assolutamente perché più degli altri legge le problematiche e più degli altri può proporre soluzioni. I nostri comuni, i nostri sindaci sono preparati? Assolutamente sì, tutti quanti se sono stati eletti hanno la forza, le capacità e anche una visione per il futuro della propria comunità. Lo sforzo è quello di alimentarsi delle esperienze degli altri. Queste regioni sono straordinarie perché sono uno stimolo continuo a fare di più e meglio della propria comunità. Molte volte non c'è bisogno di inventarsi cose nuove. Forse molte volte bisogna avere l'umiltà di copiare, di prendere spunto delle esperienze che sono state già rifatte e magari anche di migliorarle, di prendere spunto anche delle cose che non sono andate bene nel verso giusto. Copiare, prendere spunto è un lavoro che già comincia con metà dello sforzo, bisogna completarlo. I fonti ci sono? Ma non è un problema, ho sempre detto che non c'è il problema di risorse, certamente è un problema economico importante. L'importante è avere la capacità di portare avanti progetti che sono capaci di soddisfare dei requisiti. Le risorse finanziarie arriveranno, puoi perdere un giro ma poi alle fine le risorse arrivano, europee, regionali, comunitarie. L'importante è avere in mente un progetto, che sia un progetto che produrrà risultati concreti. I gruppi politici Nuovo Sogno Agnonese Identità e Futuro, Movimento 5 Stelle, hanno predisposto un incontro pubblico previsto per giovedì 12 alle 18 al Teatro Italo-Argentino di Agnone. Durante la seduta si parlerà del progetto della centrale Biomasse, delle problematiche adesso connesse e dell'assenza dei benefici che comporterebbe la realizzazione di tale progetto nel territorio dell'Alto Molise. E ci spostiamo adesso ad Isernia per parlare delle armonie dell'universo. Tanti accorsi alla cattedrale per ascoltare il concerto di musica sacra, ma sentiamo adesso le considerazioni del Vescovo Camillo Cibotti riguardo l'importanza di questa iniziativa, soprattutto in vista delle festività natalizie. Non tutti o pochi sanno che le cose, quelle belle, non vengono tanto pubblicizzate, però vale la pena dire che come queste ce ne sono tante altre e vale la pena riscoprirle e anche pubblicizzarle e questo mi sembra che sia una delle tante occasioni che la televisione possa essere utile. Onore e merito all'ingegnere Marciano Riva che nella vita fa altre cose, però quest'amore per la musica, poi di un certo taglio, è enorme proprio. Bisogna apprezzare veramente la creatività di Marciano. È anche una persona molto schiva e umile, però è una persona come si possono cogliere questi tratti dalle parole, ma anche dalla musica, una persona molto sensibile e anche abbastanza alta nei toni di una, chiamiamola spiritualità, che lo porta a vedere nel creato quello che è il segno di una presenza di Dio da sempre, luogo privilegiato per tutti per incontrarlo. E parliamo invece adesso di studi, di studio e di formazione scolastica, l'indirizzo sportivo diventa realtà, liceo scientifico Romita Campobasso, presentato oggi il nuovo programma formativo per gli studenti. Vediamo. Alfonso Rinaldi, docente del liceo scientifico Romita, nonché sportivo, coordinatore, in questo caso coordinatore della classe prima E, l'indirizzo sportivo che diventa realtà una nuova avventura per questo istituto. Cosa significa a suo parere? Significa innanzitutto una conquista per il territorio, per la comunità, perché penso che quando una scuola riesce ad ampliare un'offerta formativa è sempre un arricchimento per tutta la comunità, per tutti i ragazzi che hanno una possibilità in più, una scelta in più nel loro percorso formativo. Poi per il liceo ha un grande significato, perché in realtà noi manteniamo lo zoccolo duro di quello che è un liceo scientifico, e quindi delle materie di base, quali fisica, matematica, lingua straniera, storia, che rappresentano, ripeto, la maggior parte poi delle discipline. Però poi abbiamo seguito le idee del MIUR come questa rivoluzione, come intendere lo sport, come non più in termini di puro addestramento o di ricreatività, ma come in termini di un metodo pedagogico e strumento perfetto per raggiungere degli obiettivi trasversali e quindi formare i nostri studenti e cittadini. Con la nuova avventura dell'indirizzo sportivo migliora anche una collaborazione tra il liceo Romita e l'università degli studi del Molise. Esatto. Questo va in direzione sempre della scuola, che deve essere integrata in maniera sempre più forte con il territorio e con quello che offre il territorio. Noi abbiamo questa bellissima realtà che è l'Unimol, e quindi è giusto che ci sia un filo conduttore tra noi e l'orientamento anche per gli studenti in uscita per il loro percorso di vita. Quindi siamo contenti di avere questo filo diretto con la nostra università. Questo percorso mancava a Campobasso, il percorso dell'indirizzo sportivo dopo i Serni e Termoli, quindi una realtà che mette radici anche nel capoluogo di regione. Esatto, mancava a Campobasso e questo era, ripeto, era tra virgolette un gap, però la nostra dirigente ha voluto ponderare in maniera decisa il passo da fare e dopo qualche anno di riflessione, avendo uno staff e avendo un'organizzazione che lei riteneva, diciamo, valida, ha fatto questo passo importante e noi siamo orgogliosi di far parte di questa realtà. L'Istituto Scientifico Romita di Campobasso, sono Annalisa Minetti, e voi mi pare siete la prima E. Sono estremamente onorata di potervi, in qualche modo, dare un supporto a quello che sarà il linguaggio universale che andrete a utilizzare per conquistare il mondo dello sport. Vabbè, lo sport è un linguaggio universale, è per me un grande mezzo di comunicazione, dà la possibilità a tutti quanti noi di essere atleti che riescono a valorizzare la vita. Voi avrete una grandissima responsabilità. Spero che questo venga supportato come tale. Faccio un grandissimo in bocca al lupo a tutti i professori che vi possano trasferire la passione per la storia dello sport, per la pedagogia, per la psicologia dello sport, per tutto quello che fondamentalmente è la motivazione intrinseca, estrinseca, tutto ciò che in qualche modo sarà materiale e simbolico per voi, tutto ciò che sarà personale sarà dentro di voi. E proprio da settembre il liceo scientifico Romita di Campobasso ha aperto un nuovo indirizzo sportivo. Alla presenza degli alunni della prima E hanno preso parte alla giornata anche le autorità istituzionali e sportive della regione. E parliamo adesso di arte e musica. Il trio Metamorfosi sarà in concerto domani alle 21 al Teatro Savoia di Campobasso. Nel programma musicale saranno eseguite opere del pianista tedesco Robert Schumann. Ma vediamo adesso le previsioni del meteo. La gamma commerciale, tutta l'energia che ti serve è in Viale Olanda nella zona industriale di San Salvo. Peggioramento climatico oggi sul Molise e calo delle temperature, comprese tra i 4 gradi di Campobasso fino ai 12, la massima a Termoli. Cielo generalmente molto nuvoloso dalla sera e piogge sul litorale Adriatico. Ventilazione settentrionale, mare mosso. Domattina sulla regione lento miglioramento del quadro atmosferico ma valori ancora in calo e venti da nord. Altri due colpi di mercato per l'Olimpia agnonese dopo l'arrivo dell'attaccante argentino Federico Amaia e dell'esterno italo-tunisino Yassin Rafchi entrambi al debutto contro il Pineto. Il club Granata ufficializza il 27enne difensore centrale Marco Ciampi proveniente dalla Nocerina il 24enne centrocampista Manuel Minicucci del Latina. Gli ultimi arrivati saranno infatti a disposizione per la trasferta di Matelica prevista per domenica 15. E la difesa dell'Olimpia agnonese è stata messa alle corde nel corso dell'ultimo impegno contro il Pineto a Matelica domenica prossima però bisognerà evitare pericolosi cali di concentrazione ma vediamo com'è andata. L'agnonese deve recitare il mea culpa per aver sciupato l'occasione domenica di tornare ai tre punti casalinghi. La retroguardia Granata ha mostrato le maggiori crepe soprattutto nel corso dei calci piazzati. Meceria Allegra si sono visti rimontare a partita conclusa la terza rete da parte degli avruzzesi del Pineto. Abbiamo subito tre golle tutte su palena attiva. Dobbiamo solamente stare attenti perché siamo sulla strada giusta. Dobbiamo stare solamente più concentrati perché questa è già la seconda partita che perdiamo punti al novantesimo dopo Notaresco. Come vedete giochiamo bene però purtroppo per adesso gira così. Questo è un campo che comunque le dimensioni di questo campo sono piccole e quando una squadra si chiude dietro e poi riparte lì ci sta che subiamo un po'. Però non possiamo prendere golle sempre al novantesimo. C'è questa partita la da vince. Calo di attenzione, lucidità e intensità fisica hanno portato alla distrazione nel finale di partita che ha consentito a Tomassini di riacciuffare il pari per gli ospiti la delusione dell'attaccante Ferdinando D'Ercole. Abbiamo preso tre gol da tre calci piazzati solo questo penso che loro hanno fatto. Non meritavamo il pareggio per noi come una sconfitta. Nel secondo tempo non te lo so dire il motivo per il quale non abbiamo fatto di più delle altre partite diciamo che noi abbiamo messo in campo nelle scorse partite nel secondo tempo. All'ultimo secondo bisogna farlo volare il pallone deve scomparire. Quello è. E la squadra di Pugilato del Cus Molise è tornata a Foligno in Umbria al termine della Coppa Italia amatori di gym box Fabrizia Mastropaolo si è laureata campionessa nazionale nella categoria juniors femminile Teresa Amascione nella categoria senior invece ha raggiunto la semifinale. in campo maschile invece positive le prove sono state quelle di Giuseppe Nanni Antonio Giliberto e Enrico Stanziano e cinque vittorie e cinque sconfitte per la Air Termoli del girone di andata nel campionato di pallacanestro maschile di Serie C e Adriadici nell'ultimo turno hanno superato al Palasabetta il Campi 56-50 portandosi a 10 punti in vetta invece al raggruppamento il Pescara con 18 punti e con questa notizia si conclude il telegiornale della sera io vi ringrazio per avermi ascoltato e vi auguro un buon proseguimento di serata con la nostra programmazione arrivederci a a a a a a a a Grazie a tutti.